Ciao a tutti! Oggi prepareremo le scopette della Befana. Il tempo di preparazione della ricetta è di un'ora circa. Gli ingredienti sono zucchero semolato, farina di tipo 00, burro, uovo, tuorlo, vanillina, pasta di limone o scorza di limone, sale, bastoncini al cioccolato, il cioccolato fondente fuso. Diamo via la ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale lo zucchero e lo facciamo polverizzare per 15 secondi a velocità 10. riunire sul fondo del boccale con la spatola, aggiungere la farina, il burro, l'uovo e il tuorlo, la pasta di limone, il sale e la vanillina ed azionare il bimbi per 50 secondi a velocità 5. formare un panetto, avvolgere nella pellicola trasparente e riporre in frigo per 30 minuti. Trascorso il tempo abbiamo ripreso la frolla dal frigo, adesso la stenderemo tra due fogli di carta da forno dando uno spessore di mezzo centimetro con uno stampo a forma di campana ritagliare la frolla e con i rebbi di una forchetta formare le setole. posizionare su una teglia rivestita con carta da forno. cuocere in forno preriscaldato a 180 gradi per 12-15 minuti. le scopette sono cotte lasciare raffreddare prima di decorare col cioccolato fondente fuso decorare la parte superiore con il cioccolato fondente lasciare solidificare il cioccolato prima di servire scopette della befana grazie e alla prossima ricetta e alla prossima ricetta